Quando Alan ci ha chiesto di dare un contributo al dipartimento sui 28 punti e virgole, siamo rimasti sbigottiti. 20 minuti di video. I ragazzi trasgrediscono ai comandamenti del web al massimo due minuti, due minuti e mezzo? Vuoi dirci che loro contraddicono tutte le leggi della fisica quantistica e posseggono una capacità di concentrazione così dilatata? Questa è la prima reazione, subito consolata e confermata da Alan in persona. I miei hanno una resilienza e una soglia di attenzione molto sopra la media. Non possiamo che inchinarci davanti a cotanta superiorità. La seconda nostra reazione è emersa con un pochino di ritardo. Quale dottrina? Quale insegnamento scegliere di condividere? Si vede, noi siamo in là con gli anni e da tempo valutiamo il fatto che la nostra curva non è più in salita. Per questo ci stiamo concentrando e concertando sull'unica dottrina, quella centrale, quella che dà sapore a tutto il resto che altrimenti rimarrebbe sciapo e sciocco. Vorremmo offrirti quanto di meglio possiamo offrirti. Lo abbiamo ricevuto gratuitamente e gratuitamente vorremmo darlo. Ti pare singolare mi stia esprimendo al plurale? Sta a te? Sta a me? Ci segui? La dottrina centrale, neanche a dirlo, è il Vangelo. La buona notizia per eccellenza e ci sta in una riga sola. Una riga breve, senza punteggiatura, per puntare all'essenziale. Sei pronto? La riga è il mistero dell'agape. È una chiave di lettura sponsale della rivelazione. Sponsale sta per matrimoniale, come il materasso. Il modello inarrivabile della concisione è offerto dalle Sacre Scritture. Quindici secoli di storie distillate in poche pagine, una riga dritta dal principio al compimento. Poche non è traducibile per forza con pochezza e non è sempre sinonimo di scarso. Il mistero di Dio è Cristo. Colossesi 2.2 E' grande il mistero della pietà. Prima Timoteo 3.16. Dio è amore, agape. Prima Giovanni capitolo 4, versetto 8. E l'essere umano è chiamato a partecipare della natura divina. Seconda Pietro 1.4. Il maestro poi insegna, facilita, riassume in poche battute una profondità infinita. Il senso immenso delle scritture è condensato in detti brevi, significativi e sintetici per chi ha orecchie per udire e cuore altrettanto sensibile. Sta a te? Sta a me? Il regno di Dio è simile a un seminatore, punto. A un ricco mercante, punto. A un tesoro nel campo, punto. A una pecora smarrita, punto. A una perla, punto. A un soldino perduto, punto. A un seminatore che esce a seminare, punto. A un grano di senape, punto. Al lievito, punto. Alla festa di nozze del figlio di un re, tre punti di sospensione solo per riprendere fiato. E così via riassumendo. Il comandamento più importante? Ama. Dal verbo agapao, che muove e commuove, dipendono tutta la legge e i profeti, la Bibbia intera. Matteo 22, 40. Dall'amore dipende la vita intera. Un cuore che non conosce orizzonti è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Marco 12, 33. Ossia di tutta l'impalcatura religiosa antica che metteva in scene, in parabole profetiche, il dettagliato piano della salvezza, nei ripi del santuario e dell'agnello sacrificale. Ebrei 9, 9. Una parabola. Tutte sfumature che non puoi, lo capisci, raccogliere nelle dottrine di un credo o nelle formulazioni astratte delle dottrine fondamentali. Sta a te. Sta a me? Ok. Tutte le scritture, ordini, codice, enorme polverose, storia sacra e storie profane, sono illustrazioni artistiche e rendono testimonianza a questo unico verbo unico. Due punti. Amare. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna, eppure, non volete venire a me per avere la vita, Giovanni 5, 39 e 40. Eppure, segregato in una congiunzione amare e sospesa, eppure, il dramma di un amore misterioso ed eterno, Geremia 31, 3. Un'alleanza promessa e ribadita, sempre identica, antica o nuova che sia. L'agape, offerto come sai anche per esperienza personale, è raramente corrisposto se non in piccoli e interessati frammenti di tempo e a singhiozzo. Rimane sconosciuto e sentito dalla creatura amata alla follia. Dal primo approccio con Adamo, essere tratto dalla polvere a immagine di Dio maschio e femmina, Genesi 1, 27, fino all'apocalittico banchetto nuziale con la simbolica Gerusalemme trasfigurata che inaugura il regno eterno, Apocalisse 19, 7, è tutto un rincorrersi di promesse, giuramenti, spergiuri, addi, ritorni, voti, delusioni, pianti, abbandoni, minacce, preghiere, tragedie, speranze, dichiarazioni, leggi, patti, perdono al plurale, desiderio di comunione e complice tenerezza. Sta a te. E questo matrimonio sa da fare prima o poi. I bravi e Domorodrigo non potranno opporvisi per sempre. Seguire il filo rosso dell'allegoria amorosa nei racconti e nei profeti biblici, nei simboli Tukur, sottolineando la bellezza della irica esplicitata nel culto comunitario, luogo unico della lettura antica, pedinando da vicino gli anti-eroi, le figure femminili ritenute nell'ombra da una comprensione prevalentemente al maschile, è l'obiettivo della nostra inchiesta. Per arrivare al porto sicuro è necessario puntare la barra verso la luce in fondo al labirinto oceanico, districando via via i nodi dai lisci capelli profumati di balsamo dolce, lustri di senso e sentimento puro. L'agape desidera rivelarsi anche a te che ti stai appisolando o stai inviando un messaggino in una chat. L'agape desidera rivelarsi in questo modo misterioso, in questo mondo estraneo, e insegue senza vergogna la creatura con la quale vuole vivere in comunione sponsale, ripeto, sponsale a che fare con il matrimonio, che è la relazione amorosa e stabile nella quale si coltivano i sentimenti e se ne raccolgono i frutti. I sentimenti, quella benedetta dimensione umana, spesso tralasciata dall'analisi puntuale dei punti e delle virgole di ogni teologia. Eppure, non volete venire a me per avere la vita. Non volete venire a me, dice il Signore, l'amante vero e non solo platonico, che mette tutto se stesso rischiando la faccia e non solo pur di conquistarti. Sì, di conquistare te. Sta a te. Sta a me. Il mistero dell'agape. Un buon titolo, no? Mille passioni e cuori in gola in una riga sola. Una riga, l'unica riga, che dà senso a tutte le 28 che seguono. Buono studio. Grazie.